2 tempi alla zebra, subito a destra 3 più lunga, apre 4 vai partiamo fra 30 secondi 20, 15, 10, semaforo 5, 4, 3, 2, 1, vai ritarda sinistra 4, attenzione chiude 3 in 2 tempi alla zebra subito a destra 3 più lunga, apre 4 vai in sinistra 4 meno tieni, accelera ripeto sinistra 4 meno tieni, subito allo zip in ritarda a destra 2 lunga, gira 50 allo zip in ritarda, via 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 giù sinistra 3 meno subito allo zip in destra 2 in 2 tempi sul ponte non chiudere, accelera, non chiudere, subito dentro sinistra 3 secca, apre vai dentro, vai dentro 20, destra 4 lunga tieni in ritarda poco sinistra 2, gira chiude, occhio 50, ritarda destra 3 tieni, bravo subito sinistra 2 in 2 tempi sul ponte in allo zip destra 3 più, apre vai 30, destra 3 più tieni, subito accelera, subito ritarda 3 più tieni ritarda sinistra 4 lunga, chiude 3, subito ritarda sinistra 3 tieni e subito destra 3 secca, apre vai in allo zip destra 3 più, apre in sinistra 3 meno, secca sul ponte in destra 5 apre vai, 20 destra 4 apre, 5 lunga subito attenzione stacca, scicanna entra a sinistra in sinistra 5 su dosso vai via, vai 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 in sinistra 5 su dosso vai 30 secca sinistra e stacca, scicanna entra a sinistra 30 allo zip sinistra 3 meno, tieni subito destra 3 più, apre in allo palo destra 5, occhio su dosso, accelera, accelera subito sinistra 5 tieni, subito al cartello rovescio destra 4 più, apre vai per allo zip destra 3 più, vai 100 accelera, accelera, via, via, via al cartello sinistra 5 piena 30 e dopo il muretto attenzione frena sinistra 3 sporco apre, 20 sinistra 6 piena ancora 20 allo zip destra 3 meno, meglio di 1 3 meno 30 sinistra 4 meno per allo zip destra 2 lunga gira 20 via via, scorrere, scorrere ritarda sinistra 4 lunga, chiude allo spacco alla casa diventa 4 apre alla casa diventa 4 apre agli alberi sinistra 4 20 allo zip in ritardo a destra 3 meno occhio scivola 50 via, giù, giù destra e sinistra 4 vai subito sinistra 3 più, apre vai ripeto 3 più, apre vai 20, attenzione, stacca, scicanna entra a sinistra per via, 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 via sinistra 4 tieni subito destra 4 tieni subito ritarda sinistra 4 lunga lunga attenzione allo zip diventa tornante sinistro apre subito ritarda destra 4 lunga, chiude 3 via, 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 via 4 lunga, chiude 3 subito sinistra 4 più, apre vai 50 destra 3 più, sconnessa tieni subito sinistra 4 tieni subito destra 4 apre vai 30 destra 5 apre per ritarda sinistra 2 più tieni per ritarda destra 2 più, apre apre 30 accelera, accelera sinistra 3 apre sinistra 3 apre sinistra 3 più, sconnessa tieni subito ritarda destra 2 lunga gira vai, 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 vai fine prova, fine stop sì, ma non fare tutti questi traversi perché mi eccito io 4.27 5.27 6.27 7.27 8.27 8.27 9.27 9.27 10.28 11.28 12.28